Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite con un nuovo episodio delle Gigi News Oggi vi dico immediatamente che non abbiamo troppe cose di cui parlare, ma quelle di cui andremo a parlare sono particolarmente importanti Anche perché nella giornata di oggi, primo febbraio 2022, ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda Fortnite, ovvero la patch 19.20 Infatti oggi sarò sicuramente anche in live su Twitch, trovate il link in descrizione per venirmi a seguire E molto probabilmente usciranno altri video durante la giornata, quindi rimanete sintonizzati, controllate di essere iscritti se non lo siete, iscrivetevi e attivate la campanellina per le notifiche Prima di iniziare il mio video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi nel negozio oggetti, controllate sempre su supporto a un creatore, ci sarà scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato Anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo, grazie proprio di cuore a chi lo farà, è importantissimo per supportarmi Lasciandomi al mi piace per supportare le GG News, ora vediamo un po' cosa riusciamo a combinare e andremo a parlare appunto di queste cose davvero molto interessanti Allora ragazzi volevo partire con una notizia in cui in realtà Fortnite c'entra ben poco, o meglio, Fortnite il gioco c'entra ma non è una notizia di un aggiornamento, una news, un leak eccetera Riguarda me, eh sì ragazzi, riguarda il vostro caro GG, che è successo? Allora innanzitutto oggi andremo a giocare con mouse e tastiera, perché probabilmente il pad mi ha definitivamente dato l'addio Come sapete ragazzi gli ultimi mesi ho avuto dei problemi col mio pad a livello di analogici Parlando proprio in termini tecnici mi driftavano gli analogici che voleva dire che ogni tanto facevano dei movimenti che non andavano bene Il personaggio si muoveva da solo, la visuale si spostava troppo, insomma cose un po' così Ho comprato dei pezzi di ricambio perché io ho l'Astro C40 come pad e fortunatamente gli analogici non sono altro che dei moduli che possono essere scambiati E quindi ho preso quelli nuovi e l'ho cambiati Quindi problema drift risolto, analogici non sono più un problema Bene, ora il problema è R1 Allora avete presente che negli ultimi video mi sono lamentato tantissimo del gioco che lagga di bug eccetera eccetera Bene, ogni tanto era sicuramente il gioco, ogni tanto era qualche bug del gioco Tra l'altro ho avuto anche la conferma di alcuni bug negli ultimi giorni Tipo che per esempio vicino ai ponti le build sono un po' buggate ovvero tipo le pedane non te le fa buildare Ma ribadisco questa è un'altra storia Ho scoperto che R1 appunto mi ha abbandonato Cioè ogni tanto non si clicca, ogni tanto quando lo clicco per esempio nello slot mi switcha di due armi invece che di uno E fidatevi che nei fight è un bel problema E quindi niente, in questi giorni sono un po' disperato Non so che cosa fare, probabilmente passerò definitivamente a mouse e tastiera Boh, forse sì, forse no Sto provando anche altri pad Ora vedo un attimino Perché purtroppo ragazzi l'astro C40 in giro non si trova più Si trova soltanto usato a delle cifre veramente pazzesche Detto questo, e vi ho spiegato perché oggi andremo a giocare a mouse e tastiera Partiamo con le news Tra parentesi tranquilli che sulla mia situazione del pad eccetera Vi aggiornerò magari con un prossimo video O meglio fatemi sapere sotto nei commenti se siete interessati ad essere aggiornati Detto questo ragazzi, oggi che appunto è primo febbraio Dovrebbe uscire la crew Cioè Fortnite crew dovrebbe uscire Quindi tutti i membri del Fortnite crew dovrebbero ricevere la skin Questo set qui ragazzi Dovrebbe essere tutta questa roba qui Perché comunque è stata anche annunciata Ufficialmente da Epic Addirittura anche se andate nello shop lo dovreste già vedere E quindi raga oggi quando andrete ad aprire Fortnite Se siete abbonati chiaramente vi dovrebbe arrivare questa roba I V-Bucks come al solito vi arrivano invece durante il giorno in cui avete fatto l'abbonamento Quindi non arriva insieme a tutto Se lo avete fatto il primo del mese vi arriveranno anche quelli Però tutto nella norma raga Era giusto per avvertirvi Oh tra l'altro siamo in safe Incredibile Strano eh, molto strano Non sono abituato ad essere in safe durante le GG News Poi cosa è successo raga? Allora Epic Games sta già testando la 19.40 Che è addirittura un aggiornamento che dovrebbe uscire tra un mese Perché oggi esce la 19.20 Tra due settimane dovrebbe uscire la 19.30 Che è già in fase di test Ne abbiamo parlato anche in una delle ultime GG News Mentre la 19.40 appunto Se seguono e continuano a seguire la scaletta Che si sono ormai prefissati Ovvero quella di una patch ogni due settimane di martedì A meno che non ci siano problemi E molto probabilmente ragazzi Questa 19.40 uscirà tra un mese Ma lo sappiamo ragazzi Epic sta sempre testando gli aggiornamenti Sempre con qualche settimana di anticipo E ci sta eh, va benissimo Io spero soltanto che con l'aggiornamento di oggi Risolvano un bel po' di bug Perché in queste ultime settimane Se ne sono visti fin troppi Devo dire che questa stagione Se la sta combattendo veramente tanto Con la stagione della sabbia Quella dove si poteva andare sotto la sabbia Che era la quinta stagione del capitolo 2 Se non sbaglio Che quella è stata veramente piena di bug Ma se la sta giocando E questa anche se la sta giocando Staremo a vedere Poi ragazzuoli Vi ricordate che abbiamo parlato spesso Della mappa del tesoro Che c'era un bel po' di tempo fa Su Fortnite E che l'avevano modificata Bene ragazzi Queste sono alcune cose Che potremmo poi andare a trovare Nella mappa del tesoro Come ci riportano anche i ragazzi Di Fortnite News Che è il canale Telegram Che seguo per le news E le notizie di Fortnite E i leak soprattutto In foto sono riportati Tutti gli oggetti Che potrebbe rilasciare E ne rilascerà uno Per ogni categoria Potremmo già vederla da oggi Non lo so ragazzi Ne parliamo tra poco Perché come al solito Sheena ha fatto Il suo classico tweet Il giorno prima Dell'uscita effettivamente Dell'aggiornamento Sapete ragazzi Che solitamente Quando faccio questa serie Di GG News Ovvero le GG News Pre-aggiornamento Pre-patch Parliamo spesso e volentieri Di Apex e Sheena Che fanno le loro prediction Per quanto riguarda L'aggiornamento Oggi andremo a prendere Quella di Sheena Ma di solito prendiamo La di Sheena Perché Apex Non spesso la fa O comunque Apex Lo fa molto in ritardo E dato io che comunque Devo preparare il video La sera prima E tutto quanto Chiaramente vado Da chi la fa prima Poi tanto bene o male Scrivono quasi sempre Le stesse cose Perché comunque Loro si basano Sui leak E sulle notizie E quelle sono Quindi non è che A noi ci cambia qualcosa Ecco Allora Ecco i contenuti Che possiamo aspettarci Da questa 19.20 Ho cercato come al solito Di farvi la traduzione Con Google Traduttore Ma lascia un po' Il tempo che trova Allora il punto di interesse Del canyon Regà Quindi la grotta 2.0 E ok Cioè quindi ragazzi Già da oggi Potremmo vedere Questo nuovo punto di interesse Devo dire che Nelle patch E negli aggiornamenti Di questo Di questo capitolo 3 Si stanno concentrando Moltissimo Sui punti di interesse Perché ad ogni aggiornamento Stiamo vedendo Molti punti di interesse Emergere Vabbè Pinnacoli pendenti Su tutte chiaramente Quindi regà Della grotta Se ne sta parlando Da parecchio tempo Da parecchie settimane Io ne ho parlato poco Perché fino adesso Comunque non è che Abbiamo mai avuto Tutte queste prove Inconfutabili Diciamo così Però insomma Se lo riporta a Scina Io ve lo riporto volentieri No comunque scherzo Ne avevamo già parlato Anche un po' di tempo fa Però in maniera Un po' più astratta Diciamo così Poi dovremmo avere Degli aggiornamenti Per quanto riguarda Il cactus Quindi quella zona Per quanto riguarda Il cactus E bla 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 E boh Cioè nel senso Allora sappiamo Che c'è lo scheletro Del cactus Tipo qui Sì esatto qua Ma adesso dobbiamo capire Se il cactus In qualche modo Tornerà a far parte Della trama Di Fortnite Quindi della storia Di Fortnite Perché banalmente Non è detto Abbiamo visto come In questa mappa Epic Games Si è andato a prendere Moltissimi punti di interesse Del primo capitolo E quindi banalmente Ci ha messo di mezzo Quello del cactus Così Mi sembra strano eh Perché comunque A questo punto Visto anche tutto l'hype Che si sta creando Attorno a questa roba Del cactus Potrebbero pensare bene Di farlo tornare In qualche modo E quindi io sono Molto curioso Di questa roba qui eh Cioè potremmo seriamente Assistere ad un ritorno Clamoroso Sia della grotta Già a partire da oggi Che del cactus Però chiaramente Nel futuro Per adesso ovviamente Scina fa soltanto Riferimento al punto Di interesse Dello scheletro Del cactus Quindi boh Staremo a vedere anche qui Sono molto curioso eh Io pari badisco Vi aspetto il live Su Twitch E tra il link In descrizione Perché sicuramente Aspetteremo l'aggiornamento Te lo proveremo insieme Poi ragazzi Scina Qui per quanto riguarda I cosmetici Per fondazione Ed Haven Fa riferimento Al fatto che Comunque in settimana Dovrebbero arrivare Disponibili Le sfide per sbloccare Fondazione Ed Haven Ora il giorno preciso Non me lo ricordo Potrebbe essere Mercoledì o giovedì Non lo so Dopo quando torniamo In lobby Se me lo ricordo Non andiamo a vedere Però effettivamente Ragazzi Questa è la settimana In cui potremo andare A sbloccare fondazione Quindi The Rock Tutte le maschere di Haven Vi ricordo ragazzi Che questa skin Di questo pass battaglia Il nuovo pass battaglia Ha come stili Le maschere E noi mano a mano Tramite delle sfide Evidentemente Dovremmo andare a sbloccare Le maschere Da ovviamente poi Mettere alla skin Oh tra l'altro Sono venuti a lutare Qui in questa casetta Unespected proprio Però vabbè Vediamo se hanno lasciato Qualcosina Poi ovviamente Ve l'avevo già anticipato io Ma qui ci viene detto Anche da Shina Le sfide Per poter sbloccare Tutta sta roba Quindi anche quelle Di fondazione Chiaramente anche queste Poi le andremo a fare Magari con un video Direttamente in live Insomma Andremo a vedere Delle nuove collaborazioni Molto probabilmente Escina addirittura Dalla possibilità Del 99% Quella nuova di Spider-Man E Mary Jane Sapete ragazzi Che si sta parlando Da un botto di tempo Della skin Dell'NPC di Mary Jane E quindi staremo a vedere Anche magari di un altro Dei vari Spider-Man Ragazzi Sono molto curioso Sono molto 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 Curioso di vedere Come gestiranno Questa situazione qui Degli Spider-Man Il Daily Bugle Insomma Oh tra l'altro Qui hanno appena spaccato Un albero Sbaglio Aspettate un attimo Raga Mamma mia Non faccio un fight Con mouse e tastiera Da non so quanto tempo E infatti Se lui decide di andarsene Io in realtà ragazzi Lo lascerei molto Tranquillamente andare Noi continuiamo A chiacchierare Che abbiamo ancora Un po' di cose da vedere Ah tra l'altro Vedi raga Parli del diavolo Spuntano i corni Ecco Aven O Aven Non ho mai capito Come si possa pronunciare Ma ok Poi potrebbe tornare La Revolver Vi ricordate che In una delle ultime GG News Abbiamo parlato Della Revolver Che quasi sicuramente Tornerà Beh potrebbe essere Oggi il giorno giusto Why not Cioè potrebbe tornare Effettivamente La Revolver E quindi Rimetterla in game Ora detto questo Raga ma Se io al posto Dei flopper Mi tengo le clone back Raga che sono Sbroccatissime E qui ne posso prendere Anche 12 È mica male Penso mi convenga Le clone back Raga sono veramente Un'ottima cura ragazzi Tanta roba Secondo me Secondo me Dal mio modestissimo parere Nuove sfide Ma questa ovviamente È una banalità Per quanto riguarda Scena Perché ovviamente Come ogni settimana Ci sono sfide settimanali Quindi poi usciranno Anche le nuove sfide Settimanali E molto altro Mo tocca Vedete cosa si intende Con questo molto altro Nel senso che Comunque tutto quello Che abbiamo detto Finora Potrebbe tranquillamente Non accadere Già da oggi Ma accadere Nei prossimi giorni Quindi anche per esempio Punto di interesse La nuova grotta E quella roba lì Potrebbe non accadere oggi Ma comunque Nei prossimi giorni Quindi non per forza Aspettare il prossimo Aggiornamento Ma potrebbero accadere Anche oggi Come per esempio Vi aggiungo che Oh forse già oggi Potrebbero aggiungere La nuova mappa Del tesoro Non lo so ragazzi Appunto staremo a vedere Facciamo questi video Per provare a predictare E vediamo un po' Come andrà a finire Fatemi sapere la vostra Sotto con un commento Ragazzuoli Cosa ne pensate Di quello di cui Abbiamo parlato quest'oggi Fatemi sapere Tra queste cose Cosa vorreste vedere Già da oggi O già comunque Dai prossimi giorni Vi ricordo ovviamente Vi aspetto in live Quindi poi trovate il link In descrizione Per venirmi a seguire Anche su Twitch E io qui ragazzi Direi di andare A sfruttare Il Wabby Che ne dite Dello scanner Oddio il clombo Che carino regà Il clombo scannerizzato Oddio il corvetto viola Vediamo un po' Che ci dà Oh ma muori E dai vai giù Laggiù c'è un avversario Per quanto riguarda il resto Non mi sembra di aver visto Nient'altro Niente Nel altro MK7 viola Vabbè oggi troviamo Solo MK7 viola Ah ovviamente poi Ricordatevi di farmi sapere Anche se vorreste Questo video sul pad Comunque probabilmente Il pad un po' Continuerò ad usarlo Finchè proprio Non si rompe del tutto Però anche lì ragazzi Non lo so Vediamo 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 Stavo anche pensando Di ricomprarmi Qualche vecchio pad Che utilizzavo Tempo fa Perché magari Sono dei pad Che conosco già meglio E quindi non ci metterei Troppo a riprenderci La mano Però ecco Un po' Una situazione delicata Diciamo così Ehm Regà Ma sto loot Qui così Tra l'altro ho fatto bene A tenermi i prelibapesci Perché adesso ne abbiamo Ben quattro Tre Perché giustamente Quattro non me ne posso portare Vabbè uno rimane lì E però no Buono È stato molto buono Certo non so che cosa ci faremo Perché tanto al primo fight Morirò Però nel dubbio Ovviamente Ne riprendo Ragazzi c'è uno spiderman qua Non so se provare a spararli Ma lui non so se mi abbia visto Sapete eh No lui non mi sa Non mi ha visto Però se si ferma tipo un attimo Provo a laserarlo eh Nel dubbio Non mi tiro indietro Ok infatti Gli abbiamo rotto lo shield Va bene così Ma Con che cattiveria Ah te ne sei andato Dove è andato Venti bianco Poi non l'ho ovviamente Proprio più preso Ma questa è un'altra storia E va bene Ok Almeno ci siamo portati a casa Nella serata Ma quante jump ci stanno qua La farm delle jump Ma io nel dubbio Se c'è un altro po' di mattone Me lo vengo a riprendere qui ragazzi Dato che ne ho usato un pochino Si Se butta via niente Un altro Spider-Man Tutti con Spider-Man Questo però È shieldato per bene Ma come Ma Mi ha sparato col pump No Sto sbagliato raga Dove te ne vai No 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 Ma come capo Cioè ma sto spammando ragazzi E E E E E E E Stai Anziste così E E E dai No Un po' di rispetto Per la quiete pubblica Allora no Fermi Sta arrivare la safe Ma Io mi voglio andare a prendere Un flopper Che ho lasciato nel loot Qua di prima ragazzi Perché io non dimentico Il loot Non me lo dimentico ragazzi Importantissimo Anche la La pietra Ci siamo venuti a riprende E let's go Ci mangiamo altre due clonbacche E stiamo a posto ragazzi Ricarichiamo le armi Siamo rimasti in cinque Perché tanto ormai Raga I fight Le lobby Sono così Fino in endgame Raga ma è possibile che Non ho lootato Neanche uno Con una jump O con dei muri rinforzati Non ho nulla di tutto ciò Oh no C'è uno qua Dove sta andando Vabbè raga Io a sto punto Faccio una bella cosa Me ne vado Questo cespuglio È il miglior punto Dove potessimo andare Raga Quando siamo così tanti In endgame Io odio pushare Perché poi Come pusci uno Te sparano tutti gli altri E poi con la fortuna che ho Mi ritrovo veramente Tutta la lobby a spararme Quindi preferisco Starmene un attino Tranquillo qui Capire quello che può succedere Dato che siamo appunto Ancora in cinque Mi risparmi materiali E vediamo un pochino Certo non ho moving Però vabbè Potrò prendermi il potere Di spiderman Effettivamente Però ma Sa che gente C'ha la corona però Potrebbe essere L'obiettivo di oggi Prendere la corona a qualcuno Raga Quello lo andiamo Anche molto tranquillamente A provare a laserare così Benissimo Anche se però A saperlo Avrei laserato anch'io Quello in volo Sapete Forse era meglio Ok raga No Si è coperto Uh l'ho distrutto Mannaggia Peccato raga Poteva essere una free kill Raga uno Mamma mia Questo qui con lancia granate È cattivissimo raga Ha killato uno Ah però ha killato uno Che non ha Che non ha La corona No però mi sa Non l'ha killato lui L'ha killato qualcun altro Con la mitraglietta Stava a leggere la feed Questo raga è cattivissimo Non gli devo rompere le scatole A questo raga Perché se mi inizi a spammare Lancia granate È finita Siamo rimasti in tre Io questo qui E quell'altro Che avete visto con Spider-Man Raga provo Ad andarmene Tipo Così Va bene No 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 Ma dai siamo amici Io e te No Questo dove si sta curando Sapirai Se sta a mettere Tutti i muri rinforzati Ma quello Eh quello si è messo Lassopra Maledizione No 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 Così no però eh No ha preso lui Ok Ok E domani a tutte Regali clombacche Oh Ok Stavo andando anche verso la safe Tra l'altro raga No Ho messo la scala per sbaglio Che poi tra l'altro raga Io non solo vorrei provare a vincere Il mio sogno è quello di prendermi La corona Ok No Regà mi volevo provare a mangiare Il prelibapesce Non ce l'ho fatta Eh regà mi ha iniziato a spammare Con lanciagranate Sapete qual è il problema È che io ho completamente perso Mentre spammavo Build per colpa Del lanciagranate Dove fosse la safe Quindi avevo paura Di finire fuori safe Dovevo mettere il muro Corazzato sopra raga Ma non mi ha lasciato Proprio il tempo Mi ha laserato Peccato Non ci voleva questa caduta Da quello di sotto Detto questo raga Mi raccomando Vi ricordo Codice creatore GG Y T tutto grande Tutto attaccato Negozio oggetti Fortinet Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se non questo è fatto Lascia un bel mi piace Per me tutto Ci troviamo domani Con un pro Anzi no Che domani Dopo il live su Twitch Tra dei link in descrizione Ma anche con altri video Qui sul canale Sicuramente andremo a fare Altri video inerenti All'aggiornamento Per me tutto appunto Ci troviamo dopo Ciao ragazzi